Un gesto di accoglienza e attenzione per l'affermazione dell'uguaglianza dei diritti e l'eliminazione delle discriminazioni. Nell'ambito dei festeggiamenti per la festa della Toscana 2021 e della campagna Unicef per il riconoscimento della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, oggi presso la scuola primaria Arcobaleno di Tegoleto è stata conferita la cittadinanza onoraria ai bambini delle classi quinte nati in Italia da genitori stranieri. Nell'occasione c'è stata anche la consegna dell'attestato ufficiale da parte del sindaco di Civitella in Valdichiana Andrea Tavarnesi alla presenza della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella, Giasmina Santini. Un'iniziativa che rientra nell'ambito del programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti e della campagna Io come tu voluta da Unicef che ha appunto invitato i comuni d'Italia a conferire questa cittadinanza onoraria a tutti i bambini di origine straniera. Un atto simbolico ma accompagnato in concreto dalla diffusione delle informazioni relativi all'iter di acquisizione della cittadinanza ai minorenni stranieri e alle loro famiglie residenti nel comune. Contestualmente come negli scorsi anni in collaborazione con Slow Food, Festa degli Orti e con la campagna Piantare un albero per ogni nuovo cittadino promossa da Lega Ambiente sono stati messi a dimora nel giardino del dialogo collocato nel resede accanto all'orto della scuola Arcovaleno i nuovi alberi.